personale. Magnifico. La vita è stupenda quando si hanno tanti soldi. Sì, lo penso anch'io. Lei conosce questo Owen? Dice qualcosa sotto. Sembra che nessuno conosca il nostro ospite. Avete visto che strane quelle statuine? Dieci piccoli indiani. È forse il più famoso titolo. Siete stati riuniti qui per la contestazione delle seguenti accuse. Il giallo per eccellenza. Ogni volta che muore qualcuno di noi, anche un piccolo indiano perde la testa. L'intreccio più affascinante. La tensione più alta. Ma qui c'è dell'altro. È un titolo da leggenda. E chi lo ha scritto è leggenda. Agatha Christie. E se non esistesse il signor Owen? Festival del thriller. Domani sera alle 20.30 su TMC. Dieci piccoli indiani. Oggi arriva il primo gel per bucato. Dixan Forza Blue Gel. Ristetto ai detersivi liquidi, contiene più sostanze attive per sciogliere le macchie e consente anche un pretrattamento mirato. Il gel aderisce con precisione dove gli altri scivolano via. Così, persino sulle macchie più ostinate, Dixan Forza Blue Gel ti dà un pulito perfetto. Dixan Forza Blue Gel. Provatelo subito. Adrenalina pura. Pura. Ritmo del duemila. Mondi sommersi. Senta, conosco un modo migliore per... Lucidarsi le scarpe. Calzanetto per amanti di scarpe perfette. E vedrete, bocca di neve. Quando la digestione è lenta, puoi avere bruciore e gonfiore di stomaco. Risolvi i problemi digestivi con Jeffer. Jeffer assicura la buona digestione. È un medicinale leggere attentamente il foglio illustrativo. Se il sintomo persiste, consultare il medico. Allora, otto margherite. Sì. Vai con la mozzarella. Metodo Don Gennaro Capozzo. Vecchia scuola. Vai, 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 vai. Che cos'è, che cos'è, che cos'è, 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 cos'è. Star bene a tavola. Continua pure, Hilda. Lei lo incontrerà stasera in giardino, alle 10. Non...